Questo è l'abbigliamento Fast & Light da Trekking di Crazy Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo subito dal pantalone, questo è il modello Resolution Light Pants Ed è fatto con un materiale Endurance Light Un materiale che mi è piaciuto molto perché è molto traspirante e nello stesso modo abbastanza resistente È un pantalone che io ho provato nella versione lunga ma che esiste anche nella versione shorts in base a quella che preferite È un pantalone che come feature rappresenta delle classiche tasche nella parte superiore attorno ai fianchi E poi una classica tasca invece sulla coscia di destra dove poter riporre qualche oggetto Sulla parte superiore della vita abbiamo i passanti per poter far passare la cintura E nella parte anteriore si chiude con la classica zip e due bottoni Questo è un pantalone veramente abbastanza a tutto fare Lo possiamo utilizzare da del classico trekking basic dove veramente possiamo camminare per tante ore Ha del trekking un pochino più spinto come possono essere anche delle vie ferrate o dei sentieri particolarmente tecnici Questo perché io l'ho utilizzato facendo anche una via ferrata su un sentiero veramente tecnico E devo dire che strusciandolo contro roccia non ho avuto nessun problema Il pantalone è ancora intatto Quindi dal punto di vista della durabilità sicuramente un pantalone che durerà a lungo Aspetto un po' che mi è piaciuto molto di questa versione lunga È che nella parte inferiore attorno alla caviglia abbiamo anche dei bottoni Che ci permettono di poter chiudere un pochino la caviglia attorno al nostro scarpone In modo tale da evitare magari l'ingresso di un po' di neve se avessimo trovarla O comunque qualche detrito Quindi da questo punto di vista pensate molto bene Un pantalone come vi dicevo che ha un fit abbastanza classico Io ho preso una classica taglia M senza nessun problema Quello che ho riscontrato è che nella parte inferiore alle polpacci c'è un pochino di tessuto Tende un pochino a svolazzare Però questo dipende anche dalla vostra conformazione corporea Però devo dire un pantalone che mi è piaciuto Mi sono trovato veramente molto molto bene Soprattutto mi è piaciuto tanto il suo materiale Passando al secondo strato Anche lui della collezione Resolution Light Questo naturalmente è il pull Ed è anche lui fatto con lo stesso materiale Endurance Light Quindi come per il pantalone un materiale veramente durevole E molto traspirante E l'aspetto che mi è piaciuto di questo secondo strato È che abbiamo un doppio materiale Perché nella parte posteriore quella che va a contatto con lo zaino Quando andiamo a fare trekking Presenta un materiale ancora più leggero Ancora più traspirante Proprio per permetterci una maggior traspirabilità Da questo punto di vista devo dire Traspirabilità veramente ottima Ma ha anche regolazione termica molto bene Perché io l'ho utilizzato in delle giornate Che andavano dai 20 gradi fino ai 10 gradi E anche col vento ci protegge molto molto bene Devo dire un secondo strato che mi è piaciuto tanto Anche perché abbiamo delle classiche tasche sulla parte anteriore Dove poter riporre qualche oggetto Un cappuccio elastico molto sottile Volendo ci sta bene anche sotto un casco per esempio Ed è anche lui molto traspirante Per quanto riguarda invece la parte inferiore del capo e di polsini Sono tutti elasticizzati Non troviamo delle chiusure vere e proprie Ma sono elasticizzati Da questo punto di vista un capo abbastanza a tutto fare Perché possiamo utilizzare veramente anche lui Da del semplice trekking alle vie ferrate Magari anche a qualcosa ad alta quota E da questo punto di vista Sì è un secondo strato veramente Con il quale mi sono trovato molto molto bene E infine parliamo della giacca Perché lei è sicuramente il pezzo forte della collezione Modello Fly Jacket Che pensate pensa Ha 52 grammi nella taglia M da uomo E 44 grammi nella taglia da donna È una giacca idrorepellente anti-vento È una giacca che è un peso piuma Veramente la prendete in mano È incredibile quanto sia leggera Come vi dicevo Anti-vento perché la sua peculiarità è quella di proteggerci soprattutto dal vento Ed ha poi un trattamento idrorepellente Per andare a proteggerci dalle prime gocce di pioggia Non prendeteci un acquazzone perché non ha una membrana impermeabile Dunque in quel caso vi bagnerete Una giacca che è così leggera innanzitutto perché non presenta nessuna taschina Quindi sono andati a risparmiare veramente tanto peso E poi ha una costruzione che gli permette di poter andare a ridurre di tanto le cuciture Veramente in questo capo troviamo quel minimo essenziale delle cuciture Giusto quelle che gli permette di poter stare insieme il capo Per quanto riguarda il materiale Questo materiale è veramente resistente e soprattutto molto traspirante Perché comunque non ha una membrana Essendo anti-vento vi assicuro che è veramente tanto traspirante Lo terrei su anche delle giornate veramente calde Se c'è vento senza nessun problema Dal punto di vista poi delle dimensioni Da richiuso è veramente piccolissimo Come dimensioni veramente simili a un pacchetto di fazzoletti Quindi veramente molto molto piccolo Sicuramente una giacca molto particolare Perché è anti-vento come dicevo non è impermeabile Ma se voi siete degli amanti degli anti-vento Questo è veramente il più leggero al mondo Arriviamo dunque alle conclusioni iniziando dai prezzi Perché il pantalone e il secondo strato vengono venduti a 170 euro l'uno 150 euro la giacca Come sappiamo Crazy non è sicuramente un marchio di definizione economico È un marchio che punta tanto sul fast and light Punta molto sia sul fashion sia sui materiali A livello di fashion ci sono tantissimi colori che potete scegliere Io ho avuto i colori un pochino scuri ma vabbè E per quanto riguarda invece i materiali sono sicuramente dei capi Che vi dureranno a lungo del tempo Fatti con degli ottimi materiali e veramente fast and light Quindi da questo punto di vista Online li trovate a dei prezzi sicuramente più bassi rispetto a quelli Che li propone Crazy sul suo sito ufficiale Quindi se siete cercando qualcosa di veramente fast and light E con gli ottimi materiali sicuramente questo abbigliamento di Crazy può fare al caso vostro E detto ciao ragazzi No speranza sia stato esaurimento il suo stimo anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima Ciao